Il medico, quello di Lampedusa, di fuoco a mare, per cui assolutamente una persona che non può essere vicino alla Liga in questa dichiarazione e pensa di risolvere il problema in modo probabilmente diametralmente opposto, dice proprio che noi che li andiamo a prendere così vicino alle coste stiamo facendo morire più gente, perché non li mettono più in quelle carrette che reggevano un attimo di più la traversata del mare ma su dei gommoni, per cui in realtà quello così ne salviamo di più e siamo buoni non funziona, ne stanno morendo di più è ovvio che la gente va aiutata che scappa da una guerra, però qua c'è una migrazione di tipo diverso non solamente, fatemi finire fatemi finire, se no poi mi tocca intervenire anche a me dopo lo puoi dire, no ma io ho capito perché gli piace l'Islam, non hanno rispetto per le donne loro ci sono già adattati totalmente all'Islam mi sembra chiaro, io l'altro giorno ero, mi spiace che non c'è più nessun esponente del PD con un esponente del PD che diceva vanno tutti regolarizzati poi, perché in realtà stanno facendo lavoro nero una parte sicuramente è nelle mani della criminalità organizzata, una parte del lavoro nero però questa è l'idea che ha il PD che ora governa, è un'idea anche sovranazionale di abbassare il prezzo del lavoro e non è che è un complotto di altri secoli e togliere i diritti che i lavoratori hanno preso no ma è una cosa che penso sia chiara sotto gli occhi di tutti che sta portando poi a tutto un problema del terrorismo che è legato anche a tutti questi sbarchi è legato all'integralismo che viene fatto da delle ONG che prima cercavo di dire gli islami che sul nostro territorio, che portano gli imam, che fanno proseliti i imam che vengono banditi da altri sbarchi ma non sono quelle che vanno a mare ma sono le ONG in generale, dobbiamo prenderle tutte e valutare quelle che realmente fanno il bene della gente e quelle che invece hanno altri scopi bisogna iniziare a indagare bene sulle ONG forse a qualcuno non conviene perché ha altri interessi però scusate, si può indagare su tutti tra le ONG no, solo una cosa, 10 e 50